Chi ha un bisogno spirituale nella vita sente prima o poi il bisogno di pregare. Pregare significa volere entrare in contatto con Dio. Un contatto che ovviamente è molto importante perché ci consente di metterci alla sua presenza. L'esperienza della preghiera può essere vissuta in due dimensioni, che non si escludono a vicenda, quella della spontaneità e quella della ritualità. A volte, mentre ci raccogliamo in preghiera, sentiamo l'esigenza di trovare parole nostre, personali, per fare una richiesta, chiedere una grazia oppure per manifestare il nostro ringraziamento. Questo è del tutto naturale e ben si accompagna alla dimensione rituale, una dimensione in cui accettiamo i ritmi e le parole che l'esperienza tradizionale della Chiesa ci suggerisce. Bisogna dire molto chiaramente che la ritualità non contraddice la spontaneità, anzi fornisce un metodo del pregare che può aiutare anche la preghiera spontanea nell'essere più efficace. La ritualità, il ritualismo, divenne ancora più importante quando ci troviamo a considerare il culto pubblico della Chiesa, dove più persone si trovano insieme a pregare. Certamente bisogna stare attenti che questo ritualismo non divenga un atteggiamento vuoto, ma questo può succedere anche con la cosiddetta spontaneità, che può divenire arrogante in alcuni casi. Tra vuota spontaneità e vuoto ritualismo, meglio il secondo, almeno le parole che vengono pronunciate sono garantite dall'autorità della Chiesa e non offendono il Signore. In effetti bisogna riconsiderare una parola che è stata pronunciata con grande sdegno o disprezzo negli ultimi decenni, che è rubricismo. Il rispetto delle rubriche e quindi del rito garantisce una protezione per il celebrante e per il fedele, perché la spontaneità apre la porta al soggettivismo, che mal si sposa con il culto pubblico oggettivo della Chiesa. Quindi è bene che la partecipazione esterna alla preghiera pubblica della Chiesa sia ben regolata, in modo che non divenga l'imposizione personale di alcuni sacerdoti sui fedeli, o un vuoto correre attorno o appresso alle parole. Questo non toglie spazio alla preghiera spontanea, che ha i suoi tempi e modi per manifestarsi.